uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente manca davvero pochissimo meno sei giorni all'arrivo della season numero due di questo capitolo due tutti la stanno aspettando sento l'hype che sta risalendo e vedo anche che l'interesse su fortnite piano piano sta riprendendo piede un po come all'inizio di questa season c'è da dire comunque che le novità non mancano anche in questa manciata di giorni e tra l'altro ne approfitto per fare un buon augurio di san valentino a tutti gli innamorati a tutte le coppiette fate gli auguri mi raccomando alla vostra bella o al vostro uomo nel video di oggi ragazzi parliamo però di una nuova arma trovata nei file di gioco o forse no una nuova smg una mitraglietta vi faccio vedere delle cose più avanti e parliamo anche di un argomento importantissimo fondamentale per noi giocatori e per epic game stessa il nuovo presidente di epic games esattamente da qualche ora il team ha finalmente o comunque ha un nuovo leader che promette tanta tanta roba e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live dalle 8 alle 18 sulla piattaforma viola grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video delle 13 e 30 prima la domandina la faccio sempre ci tengo tantissimo alle vostre risposte un paio di giorni fa vi ho chiesto qual è stata qual è stato il tuo evento preferito o la tua season preferita oggi invece vi chiedo una cosa molto simile ma da quale season giochi a fortnite ormai i veterani cominciano a vedersi e ragazzi chi ha iniziato il season 6 season 7 può quasi già definirsi un veterano io ho iniziato vabbè da quando è uscito fortnite lo sappiamo lo sappiamo tutti le ho viste è stato molto bello tanta roba voglio sapere qua sotto nei commenti invece la tua season d'inizio ma quindi ciao alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo argomento di oggi un tweet molto molto importante che ci conferma solidifica ovviamente l'arrivo di questa nuova season la patch 12.00 è stata aggiunta nelle api di gioco no le api no le api le stringhe di codice del gioco questo vuol dire ovviamente che la patch 12.00 equivale alla season 12 10 season nel primo capitolo e due season con quella che sta per arrivare quindi tanta tanta roba oramai ci siamo non vedo l'ora e speriamo veramente che non ci deluda anche perché ragazzi vi ricordo ecco qua il calendario la nuova season per adesso confermata al 20 febbraio dopo un bel po di posticipazioni però non credo che dovremmo aspettare ulteriormente e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi si tratta proprio di questo bel faccionaccio simpatico guardalo qua che sorride come una pasqua milionario come pochi il signore che vi sto mostrando è il futuro di fortnite per noi per voi e per tutto il team di api games si chiama adam shashman shashman praticamente è stato per cinque anni e mezzo il il general manager no il capocione di niente poco di meno nike quindi non è proprio l'ultimo pirla della cucciolata è uno che sa sicuramente quello che vuole e lui dice after 5.5 greets years at nike dopo cinque anni e mezzo di bellissimi anni alla nike si dice brutilo lo sgaggiano di mazzate ho deciso di spostarmi in un'altra opportunità vado a fare il presidente di api games applausi molto bravo molto bravo nike è stato un brand meraviglioso e lì ancora giù di corcate se non dice queste cose ho deciso di prendere ho preso al volo questa chance di lavorare con altre persone meravigliose e sono sicuro che lavoreremo meravigliosamente assieme sono molto eccitato per entrare in questo nuovo team di o di epic e sono onorato di essere una delle parti più importanti del team stesso lavorando appunto per una delle compagnie di videogiochi più grandi del mondo il 2020 sarà un bellissimo anno per me e per mia moglie abbiamo tre bambini abbiamo due cani e ritornerò ai videogiochi mi sposterò in nord carolina e avrò l'opportunità di modificare il futuro del gaming quindi ragazzi speriamo che le scelte del signor shashman siano tanto tanto intelligenti quanto attuabili noi gli auguriamo tanta buona carriera e speriamo che fortnite risorga tipo fenice dalle sue ceneri e andiamo avanti nel prossimo argomento di oggi ragazzi vi stavo appunto anticipando che hanno aggiunto delle cose molto interessanti nei file di gioco tra cui delle nuove modalità a tempo limitato che stanno per arrivare la prima si chiamerà sneaky silencer e si giocherà in solo probabilmente solo con armi silenziate non lo so sinceramente la seconda sarà la bounty invece in squad avremo il trios che ovviamente si giocherà in tre e l'avevamo già detto che sarebbe tornato sarebbe tornata la modalità trio tanto amata dalla community e poi una modalità a squadre che sembra catch prendi non so in realtà se li abbiamo già viste in italiano io non gioco quasi mai le ltm anzi non le gioco mai a meno che non mi diano dei premi tipo le sfide amore e guerra quindi speriamo che siano tanta tanta roba anche queste e sicuramente danno un po di dinamismo in più al nostro fortnite e andiamo avanti con un altro argomento di oggi molto interessante quello che vi anticipavo all'inizio sono stati trovati nei file di gioco ve l'avevo pubblicata questa foto due giorni fa su instagram vi ricordo sempre di controllare anche la mia pagina instagram perché pubblico tante cosine interessanti di fortnite sono stati trovati dei codici inerenti a una nuova rapid fire smg quindi una nuova mitragliatrice sorgono però dei dubbi sarà veramente una nuova arma che verrà introdotta oramai nella season 2 o potrebbe semplicemente essere un potenziamento della mitraglietta come succede ad esempio sulla r è presente la r r bianco r verde r blu no sbagliato che cavolo è sì a r blu e poi lo tiri su e poi lo tiri su e ti diventa il foci il fucile automatico epico e leggendario potrebbe essere la stessa identica cosa per la mitraglietta che magari verrà potenziata in due rarità sono molto più propenso a pensare che sia come quest'ultima cosa che vi ho detto staremo ovviamente a vedere e perché no a provarla in game per chiudere ragazzi la serie di argomenti di oggi questo video è stato caricato di pomeriggio quindi probabilmente già lo sapete ma si parla della skin di san valentino l'avevamo vista proprio nell'ultima patch la 11.50 questa o proprio bellissima skin a tema san valentinico composta praticamente da scatole di cioccolatini nastrini vari addirittura skin reattiva come vedete la faccia cambia e dopo essere una faccia normale diventa la scritta kiss me ora io ripeto non so se questa skin è uscita oggi il video è caricato è stato registrato ieri ma se così fosse si dice che potrebbe essere gratuita anche perché alcuni informatori giustamente dicono abbiamo già avuto l'anno scorso per san valentino un deltaplano gratuito quello con il cuore e le ali e mi sembra abbiamo avuto anche la copertura se non ricordo male di san valentino quella del love ranger con i cuori neri ti pare che qualcuno spende 15 dollari per pigliarsi sta minchiata effettivamente hanno anche un pochettino ragione la skin non è niente di che però comunque è confermato il fatto che sia di rarità epica insomma ragazzi anche per oggi le notizie sono tutte io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo anzi noi siamo già in live ciao di là sulla piattaforma viola ciao 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 Grazie a tutti.